Scusate, un attimo di attenzione perché c'è il premio Uovo Sparizione 2008 che verrà consigliato da Tignor Farnet e da Signor Costantini perché meglio ha rappresentato questa essenza. C'è una fascia, Antonio mettigli la fascia da sto ragazzino. Firmato, è un onore. Un momento importante. Era giusto, era giusto. Antonio viene qua. Quando oggi ti ho detto, quando oggi ti ho detto, i ceraioli mi hanno andato sempre giusto. Per i ceraioli arrivavano il corso, l'affetto. Quando oggi ti ho detto, quando oggi ti ho detto i da venire al Fusion, te qui hai capito? Diggielo. Come mi hai detto, tocca agli al Fusion, te mi hai detto? Due? Non hai capito te al posto del Fusion? Dai che hai ricevuto il locale. Metta il furlo. Due al furlo. Però fai una foto del...